Al di là della fede calcistica di chiunque, Gianluca Viagli è stato un simbolo del bel calcio italiano, il mito di generazioni di ragazze, nell'ultima fase della sua vita, uno dei principali artefici della vittoria agli europei e degli azzurri nell'estate del 2021. La morte di Viagli a 58 anni dopo 5 anni di lotta al cancro ha colpito particolarmente l'opinione pubblica, proprio perché la sua stoffa da campione si è vista anche al di fuori dal campo di calcio nell'affrontare con forza e tenacia la malattia che si era insediata nel suo corpo nel 2017. Un tumore al pancreas, l'ospite indesiderato l'aveva più volte definito. Ieri a poche ore dall'annuncio della sua morte l'ha voluto ricordare anche Patrizia Benini, direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto, che nel salutare il calciatore ha ricordato una frase pronunciata da Viagli parlando della sua malattia. Ai ricercatori dico forza e coraggio ragazzi, buon lavoro, abbiamo bisogno di voi. Per Benini un monito che va ascoltato. Credo che la morte di Viagli abbia colpito al di là ovviamente della conoscenza del grande calciatore, ma credo che lui va da riconosciuto un grande uomo, un grande paziente e una persona che è stata da simbolo anche in questo campo, che è quello della patologia, che è quello dello stimolo alla ricerca e credo che questo è un grande messaggio che lui ha dato, di sperare fino in fondo da una parte come paziente e dall'altra parte di stimolare il sistema, i ricercatori, agli sforzi massimi per poter ovviamente guarire o far sì che le persone neanche si ammalino.